Saluto al sole! Andiamo! Bene ragazzi! Viene inizio! Ok! Saluto al sole! Saluto al sole! C'è un'attività di un'attività di un'attività di un'attività prima che iniziamo andare a terra a terra! Facciamo un passaggio a terra! Qui! Saluto al sole! Sì, ci vediamo che iniziai! A poi non sto! E non sto iniziai! Non sto iniziai! Non sto iniziai! Non sto iniziai! Sì! Viene iniziai! 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 A presto, a presto, a presto. Grazie a tutti. 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 la musica pietro alle mani subito mettere il stile spire dal mondo vivo grande se sei quando iniziamo il suo genere piegato ci siamo ragazzi iniziamo a sisma Grazie a tutti. 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 Agosto. Grazie. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie.